Ciao a tutti, in questo video vediamo insieme come realizzare il nostro primo taglio con il nostro ProTel Silhouette. Io utilizzerò la Silhouette Cameo 4 e ovviamente le impostazioni che andrò a mettere saranno per quel macchinario lì. Potete comunque utilizzare questo programma e vedere questo video per fare il primo taglio anche con altri macchinari. Allora, ci andiamo ad aprire il nostro programma Silhouette Studio. Come vedete qui viene visualizzato il nostro tappetino da taglio. Ci andiamo ora ad impostare la nostra area di lavoro. Quindi andiamo nelle impostazioni della pagina, la prima casellina qui in altro, strumenti, impostazione pagina. Macchina in automatico a me mette la Cameo. Se voi utilizzate la Portrait, cliccate su Portrait, anche se in realtà ve lo dovrebbe cambiare in automatico. Tappetino di trascinamento, io metto il 12x12 perché andrò ad utilizzare il tappetino 30x30. Se voi utilizzate la Portrait, in questo caso cliccate su Portrait. Dimensioni media, io metto in automatico il 12x12. Ovviamente voi fate come volete. Se utilizzate l'A4, un foglio magari A4, un formato A4, potete cliccare direttamente su A4. Vabbè, lasciamo A4, non cambia nulla. Tanto dobbiamo far vedere come fare un taglio, non cambia niente al momento. Il file che mi andrò a tagliare, lo faremo magari sotto forma di scritta. Quindi vi faccio vedere anche come creare un testo. Andiamo qui sulla nostra casella di testo, qui sulla sinistra dove c'è la A. Ci clicchiamo sopra, clicchiamo sulla nostra area di lavoro con il mouse e scriviamo Silhouette Mania, voi ovviamente potete scrivere quello che volete. Cliccate fuori in modo da deselezionare la scritta e poi ci riclicchiamo sopra. A questo punto andiamo a scegliere il nostro font. Vi ricordo che i font che utilizzerete e che troverete nel programma Silhouette Studio sono gli stessi font che avete installato sul vostro pc. Quindi se trovate un font su internet lo scaricate tranquillamente, lo installate sul pc e ve lo ritroverete nella cartella dei font. Andiamo qui sulla destra dove c'è la nostra A. Ci clicchiamo e ci andiamo a scegliere il font. Vi ricordo che per poter ritagliare un font, una scritta in generale, vi consiglio di non andare a scegliere un carattere troppo fino. Perché i caratteri troppo fino, in generale le righe troppo fine potrebbero essere tagliate male. In questo caso ci andiamo a scegliere una bella scritta. Ho scelto questa scritta qua. Io questa scritta ovviamente la posso ingrandire o rimpicciolire come voglio con i cursori questi laterali. Quindi mettete il puntatore del vostro mouse qui sul quadratino e vedete esce fuori quella freccetta con due punte. Se andate verso fuori la scritta o il disegno viene ingrandito. Se lo portate verso l'interno la scritta o il disegno viene rimpicciolito. Io vi consiglio sempre di utilizzare questi cursori laterali alti e bassi per modificare il vostro disegno in modo uniforme. Perché se andate ad utilizzare questi qui centrali, questo o quest'altri, vi faccio vedere. Vedete la scritta o comunque il disegno si sforma. Quindi non è più una cosa uniforme. Ok? Invece se fate così mi viene modificato tutto allo stesso modo. Quindi, tornando a noi. Aumento un po' lo zoom così vi faccio vedere. Per andare poi a ritagliare la mia scritta io me la posiziono nella mia area di lavoro bianca, mi raccomando. Ok? Quindi in questo caso io posso tranquillamente lasciarmi come area di lavoro A4, come abbiamo messo prima. Oppure posso anche andarmi a modificare anche se alla fine non cambia niente, eh. Lo potete pure lasciare sotto forma di A4. Mi vado a modificare la mia altezza in modo da rimanere con l'area di lavoro bianca esattamente sulla parte che devo andare a ritagliare. Ok? L'importante è che la scritta e il disegno stia dentro. L'importante è anche, e la cosa forse più importante, è che la mia scritta, il disegno, non vada oltre questa riga rossa. Mi faccio vedere più grande così, magari si vede meglio. Vedete questa riga qua? Che è la famosa riga di taglio, bordo taglio. Se io vado a cliccare qui, lo metto e lo tolgo. Io lo tengo sempre selezionato in modo che non mi sbaglio. La scritta deve stare sempre all'interno di questo bordo qui. Non sopra. Ok? In questo caso non va bene. Anche di poco poco, tipo così, così anche va bene. L'importante è che stia dentro. Non sopra e non fuori così. Ok? Non deve sbordare da nessun lato, né di lato, né sopra. Ok? Mi raccomando, quando andate a fare un taglio, controllate sempre questa cosa. Comunque, se lo mettete un po' così, state più tranquilli. Una volta fatto il nostro disegno, scritta, quello che volete, andiamo sul pannello invia. Da qui andiamo a inviare al nostro macchinario il taglio. Quindi clicchiamo su invia. Probabile che a voi non esca fuori selezionato di rosso. Non vi preoccupate. Cliccate sopra, con il mouse, e cliccate su taglia. Ok. L'importante è che voi, prima di mandare in taglio un disegno o una scritta, abbiate la selezione di rosso in questo modo. Quindi dovete stare attenti ad aver cliccato qui sopra a taglia. Ok? Se ce l'avete così, non selezionato, non evidenziato di rosso, ci cliccate sopra e lo fate. Quindi cliccate su taglia. Perché se vi rimane non evidenziato di rosso, non verrà ritagliato. Di fatto è perché sta su non ritagliare. Ok? Aspettate che adesso attacco la cameo, eh. Ok. Scegliamo. Ah, togliamo questa, questo foglio di plastica dal tappetino, che mi raccomando non dovete buttare perché questo è utile, perché se lo buttate sul tappetino mi ci fa un sacco di polvere, e poi non appiccica più. Io sto usando un tappetino non originale che ho comprato su Amazon. Mettiamo il nostro foglio, ovviamente in corrispondenza di dove abbiamo messo il disegno sul file, sul pc, sul programma, ovviamente stando attenti ai bordi, ok? Non dovete essere proprio precise, però neanche a fare una cosa del genere, insomma. Neanche a fare così, ok? Quindi cercate di essere precise, perché comunque ne vado il vostro lavoretto. fate una cosa fatta bene, ok? Una volta che avete messo, io poi alla fine il foglio l'ho messo a quattro, anche se ho modificato l'area di lavoro, ma tanto comunque andrà a tagliare qui, qui non ci arriva, quindi a me non mi cambia niente, ok? Ok, come vedete, qui ho appena acceso la cameo e la macchina mi ha dato pronto, qui mi ha riconosciuto direttamente gli utensili che sto utilizzando, quindi la lama, lo strumento che sto utilizzando. A voi, se state utilizzando la lama automatica che avete trovato all'interno della confezione, sicuramente qui vi metterà autolama, ok? Non cambia niente, semplicemente io sto utilizzando un altro strumento che ha la stessa funzione, solo che andava bene anche per i vecchi macchinari, le vecchie cameo. Siccome io ho la scorta, sto continuando ad utilizzare quello, semplicemente. Quindi, autolama, qui in automatico vi dirà taglia, cartoncino liscio, perché io sto mettendo un cartoncino liscio, come impostazioni va bene. Queste impostazioni qui, quindi lascio lama 3, forza 20, la forza vi ricordo che è la pressione che ci mette il macchinario per andare a tagliare, quindi se avete un materiale con una trama più spessa, o comunque un materiale più spesso, un cartoncino più pesante, dovete, sì, aumentare la lama, ma anche aumentare la forza. Io di solito aumento prima la forza, se vedo che è arrivata al limite massimo, non taglia, aumento anche la lama di 1, non di 10, ok? Velocità 4 va bene in questo caso, perché il mio disegno è abbastanza semplice. Ovviamente, più il disegno è intricato e ha dei pezzettini piccoli, e più la velocità deve essere bassa. Passi 1, quindi quante volte la lama passerà sulla riga rossa per tagliarla, in questo caso, se io ho messo le impostazioni giuste, un passo va benissimo. Ovviamente, iniziate con un passo, perché se mettete subito passi 2, a meno che non conoscete già il macchinario, ma non è il vostro caso, se no non stavate a guardare questo video, rischiate di tagliare il tappetino. E poi clicco su invia, anzi no, scusate, prima carico il tappetino. Allora, prima di andare a caricare il tappetino, ovviamente dobbiamo inserire la nostra lama. Io, come vi dicevo prima, utilizzo questa lama qui, che è la lama rachet, con l'apposito adattatore, che andrò a mettere qui dentro. Spingo fino, questo lo tiro fuori, spingo fino in fondo, in modo che non ci rimanga spazio e chiudo. Ovviamente queste clip qui andranno ad incastrarsi in modo da tenere la lama ferma, ma mano a mano che taglia. E adesso carico il tappetino. Ok, arrivati a questo punto, ci andiamo a caricare il tappetino. stando attenti, ragazzi, vi faccio vedere a mettere il tappetino in corrispondenza di questa riga qua. Ok? Il vostro rullo deve capitare qui e quest'altro deve capitare su questa fascia qui, quella che non appiccica. Quindi, così, e poi clicco su carica, quindi la frecchetta che va verso l'alto. Il tappetino viene caricato e adesso dal computer clicco su invia. Ok, ho scaricato il tappetino, come vedete il taglio è stato fatto, è perfetto. Vedete? Veramente, veramente perfetto. Faccio vedere anche il pezzo qui. Ok? Vi mando un abbraccio. Ciao!